Ciao, ciao a tutti, benvenuti, bentornati, bentrovati, come state? Spero stiate bene, spero che abbiate passato una Pasqua serena, gioiosa, ricca di pace, di amicizia, di affetti. Per noi è stato così, anche se c'era la mia mamma che ha preso l'influenza e quindi il giorno di Pasqua non è stata con noi. Quindi fortunatamente l'Uni dell'Angelo stava un pochino meglio, quindi è riuscita a venire a casa nostra e a stare in compagnia della nostra famiglia allargata quest'anno. È stata una Pasqua molto bella, internazionale e nulla, adesso è finita, è passata. Io sono in un periodo rallentato, mi sento in letargo, faccio fatica a concentrarmi, infatti ho lasciato passare qualche giorno per ripigliarmi, ma non mi ripiglio. E allora ho pensato, dai, diamoci una botta con un nuovo video di prodotti finiti home. Non sono tantissimi, ma siccome sono in fase di pulizia e svuotamento, ho deciso che il bagnetto doveva essere svuotato, altrimenti non so dove altro mettere tutti i rifiuti dei detersivi e delle cose che uso per la casa. E per passare così qualche minuto insieme, saranno veramente pochi prodotti, vi dirò cosa ne penso e anche per stare un po' in vostra compagnia, per ritornare un po' alla routine, perché è bello stare in vacanza, è bello rilassarsi, anche se vabbè, per chi non lavora nel mondo della scuola, comunque le vacanze sono molto ridotte a lunedì dell'angelo, però si entra un po' in quel mood, in quell'atmosfera di tranquillità che appena passato il periodo della Pasqua c'è con tutte le funzioni per chi vi partecipa, per tutta l'organizzazione del pranzo pasquale, così lasciano un po' così senza fiato. E quindi io perdo un attimo i contatti con il mondo, non dico virtuale, ma il mondo reale, che è fatto anche di mondo virtuale, per chi, come me, si diletta nei video di YouTube. Un video breve che diventa sempre lungo perché io comunque chiacchiero, ma va bene. Iniziamo subito con i prodotti finiti. Allora, ho finito questo ammorbidente aromatico di Tesori d'Oriente. Allora, sono tutti, tutti, tutti veramente, veramente buonissimi. Lasciano una profumazione molto intensa e non avete bisogno assolutamente di mettere un prodotto aggiuntivo per dare profumo alla vostra biancheria. Lasciano gli indumenti morbidi e il profumo, come vi ho già detto altre volte, rimane per giorni, rimane anche nel cassetto. Questi, quando li trovo scontati, li prendo sempre al tigotà. Questo è buonissimo. È veramente argane, fiori d'arancio, un profumo dolce e fresco nello stesso momento e molto, molto intenso. pensate che quando ho utilizzato questo ammorbidente ho lavato tutti gli abiti da lavoro di Mattia. Mattia in questo momento sta facendo, sta aiutando in un negozio di alimentari nel banco panetteria e mi ha detto mamma per favore ti prego non usarlo più per i miei indumenti perché si sentiva tantissimo e mi sono fatta probabilmente prendere un attimo la mano e comunque il profumo è davvero molto intenso quindi quando lavo adesso i suoi indumenti da lavoro cerco sempre un ammorbidente che sia più delicato e più fresco, insomma. E quindi, questo intanto per dirvi che l'intensità di questi ammorbidenti è davvero molto, molto forte per chi, come me, ama i profumi è il top. E questo è uno poi, sempre di Tesori d'Oriente ho finito anche questo Acqua delle Figi e Alga Rossa questo invece ha un profumo molto fresco richiama un po' alla profumazione del profumo di Tesori d'Oriente non è così acquatico che ricorda un po' il Rem però è molto, molto fresco e anche questo è veramente molto intenso ecco, questo forse è più indicato per dei vestiti da lavoro o da camici bianchi questo dà proprio la sensazione della biancheria pulita della biancheria fresca della biancheria stesa al sole questo è veramente molto, molto buono poi ci saranno delle novità perché ho fatto grazie o per colpa di della mia amica Ileana del canale YouTube Le Perle di Daphne se non la conoscete andatela a conoscerla perché innanzitutto è una persona simpaticissima che vi mette di buon umore quando guardate i suoi video e lei è specializzata nei detersivi ammorbidenti per tutto quello che è la pulizia della casa perché ama pulire la casa al contrario della sottoscritta che lo deve fare per forza e raccontando di dove avesse comprato gli ultimi suoi detersivi ho fatto un acquisto anch'io su uno store che poi vi racconterò mi deve arrivare il pacco e ho trovato di Profumi d'Oriente proprio la profumazione che è al melograno e che è la mia profumazione preferita che dicono dicono non dicono dicono che ricordi il Baccarat Rouge io non l'ho mai sentito come profumo originale ma mi piace tantissimo e mi sono comprata gli ammorbidenti ma anche tante tante altre cose sempre per la pulizia della casa ma non divaghiamo andiamo avanti ho provato spuma di champagne lavatrice nero per neri e colori scuri l'ho trovato buono mi è piaciuto l'ho comprato che era scontato ma io rimango sempre della mia idea che per me per i miei capi scuri il migliore è il Dual Power e proprio su questo store Caldarelli Caldarelli mi pare si chiami Ile poi correggimi se non è giusto ho preso tutte le tipologie del detersivo Dual Power questo è buono ha una profumazione di sapone di Marsiglia molto molto tranquilla molto tradizionale ha lavato bene ma per me il top rimane sempre il Dual Power per i capi scuri ho finito questo gel anticalcare per lavatrice V5 potente ed efficace forse l'ho comprato all'Eurospin non mi ricordo perché so che il V5 c'è anche all'MD ma è tanto che non vado all'MD mi pare di averlo comprato all'Eurospin mi è piaciuto ma anche qui mi è piaciuto molto molto di più l'altro che è quello anche igienizzante che o forse a questo l'ho trovato l'ho comprato alla Lidl non mi ricordo o alla Lidl o all'Eurospin ma trovo molto più efficace e che mi dà l'impressione che disinfetti molto di più quello dell'Eurospin bianco igienizzante che sto finendo che ho in uso adesso questo comunque ha fatto il suo lavoro un profumo un odore più che un profumo molto forte molto intenso per i capi liquidi utilizzo un gel anticalcare liquido per i capi bianchi utilizzo invece la polvere la polvere in polvere ciao Eli ce la facciamo comunque la polvere in polvere che è tipo questa che ho finito Dexala smacchiatore oxy blue che mi è piaciuta adesso ne ho in uso una della Vanish e mi piace tanto anche quella questo è finito poi recupererò il mio dosatore perché poi li utilizzo e anche questa perché se trovo ne ho sempre due di scorta pulite perché quando trovo magari delle offerte soprattutto alla Conad dello smacchiatore nelle scatole di cartone preferisco prendere quella scatola di cartone che poi è riciclabile e questo comunque è finito anche questo e questo principalmente l'uso per i capi bianchi per le spugne dove utilizzo anche il dash che è il mio detersivo in polvere preferito e l'unico al momento tanta roba ragazzi tanta roba l'enor sapete che io ho utilizzato veramente pochissimo il l'ammorbidente l'enor mi sta un po' antipatica è la signorina che fa la pubblicità dell'enor ma questo è quasi fastidioso quasi fastidioso se non vi piacciono gli ammorbidenti profumati troppo profumati non compratelo veramente questo si sente a una distanza illimitata buonissimo per me buonissimo e lo trovo molto fiorito molto dolce quindi adatto alle spugne agli accappatoi perché vi regala anche una sensazione secondo me di benessere potrebbe essere anche aromaterapia visto la profumazione intensa che ha ottimo ottimo veramente veramente ottimo buono 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 ho fatto fuori un sacco di ammorbidenti poi ho finito questo detersivo lana e seta capi delicati di S lunga penso sia abbastanza vecchiotto perché me ne era rimasto in giro un residuo era forse qua e visto che nelle settimane passate era arrivato il caldo io ho lavato tutti gli indumenti di lana che avevo in uso e anche quelli che poi ripongo per l'inverno adesso l'inverno praticamente è ritornato e quindi dovrò fare un secondo ciclo di lavaggi comunque niente di particolare io siccome lavo comunque tutta la lana e anche i capi delicati magari seta quelle poche cose che ho in lavatrice usando un programma delicato apposta e la mia lavatrice è veramente molto brava perché non rovina non rovina nulla io ho una lavatrice Bosch che ormai è vecchia perché sono passati sette anni da quando l'ho acquistata però fa il suo fa il suo lavoro non mi ha mai rovinato nulla e quindi qualsiasi detersivo per capi delicati va bene insomma ho un profumo normale di detersivo delicato fiorito ha fatto il suo lavoro ha pulito bene poi ne metto veramente veramente poco perché chiaramente non serve chissà quale è proprio per rinfrescare un po' l'indumento ed ho finito anche questo non so più dove mettere le cose mi nascondo e riapparro e riappaio poi vediamo qui l'ho messa dentro qui perché ho finito anche altri 4-5 prodotti in scatola di cartone ma il mister paolo mi ha sbattuto via tutto quindi questa l'ho finita e l'ho tenuta per farvela vedere era una collezione di tisane che avevo in ufficio anche molto molto carina perché c'erano la tisana detox la tisana snella e in linea assolutamente relax e riposo pancia piatta e digestiva energia e vitalità le abbiamo bevute in ufficio sono davvero molto molto buone non sono aromatizzate sono delle tisane al sapore proprio di erbe c'è il tarassaco nella detox nella snella in linea c'è la menta e il limone nel relax riposo c'è la menta la camomilla la passiflora nella pancia piatta c'è l'anice stellato e la menta nella digestiva c'è l'arancio e non so se è la lavanda energia e vitalità c'è la cannella la curcuma e il tè verde insomma sono comunque delle tisane molto erbace quindi se non vi piace quella tipologia di sapore non fanno per voi a me piace perché mi dà l'impressione quasi che subito le erbe che ci sono al suo interno fanno effetto anche se sarà un effetto placebo però mi piace questa tipologia di tisane anche se mi piacciono molto le tisane fruttate le tisane aromatizzate i tè aromatizzati e questo l'avevo comprato su Amazon cofanetto tisane equilibria 60 filtri una bella scorta un prezzo conveniente e se vi piace ve lo consiglio giù a terra poi finiti e qua 1 e 1 2 ho profumato la casa in tutti i posti allora ho finito questo profumatore della Gled per il profumatore quello alto temporizzato buono questo era all'ambra e al gensomino sono molto buoni ma costano un patrimonio quindi io li ho sostituiti tutti con questi profumatori compatibili che ho trovato all'action funzionano perfettamente sono identici come forma ho sostituito il lo spruzzatore qui il dosatore dello spruzzo non so come si chiami il dosatore questo è quello originale della Gled funzionano meravigliosamente e questi costano 1,69 euro hanno lo stesso identico utilizzo hanno la stessa identica durata e francamente sui 4 euro me ne saltano fuori quasi 3 insomma questo tra l'altro è buonissimo sono andata a comprare l'altro giorno ad action ne ho comprati 2 di questa profumazione e 2 al profumo di limone e cedro e menta insomma un profumo un po' più primaverile un po' più fresco buonissimi veramente buonissimi poi ho finito questo profumo a biancheria e anche per il pavimento ma io lo utilizzo solo per la lavatrice sono della linea coccolatevi sono sempre tutti buoni e io li uso proprio per intensificare i vari ammorbidenti quelli che magari non sono troppo strong e io invece voglio il profumo strong ho finito questo detergente per le mani di balea ottimo mi è piaciuta tantissimo questa l'avevo nel bagnetto di servizio una profumazione molto fresca molto marina sono sempre tutti buoni lasciano le mani morbide non irrita le mani mi piacciono sempre tanto e vabbè questi sono quelli che prediligo perché hanno un costo basso fanno il loro dovere nella pulizia delle mani ho finito questa candela della bolsius le trovo veramente ottime questa la lavanda poi ha una profumazione molto intensa ma tutte le profumazioni ve l'avevo già detto sono molto intense e si sentono molto profumano l'ambiente la candela fisica ce l'ho giù perché devo fare il mio lavoro di scioglimento candele per rifare le candele con tutti i pezzi di cera avanzati queste ve le consiglio io le trovo al tigotà molto spesso sono in sconto nei vari formati e mi piacciono mi piacciono proprio tanto le compro anche per l'ufficio ho finito di questa linea che non so da dove arrivi camomilla torino non è la camomilla presumo della moda però non ne sono sicura era quella profumazione che avevo comprato allo store cinese per i profumatori d'ambiente con i bastoncini che tengo in camera ma da quando sto utilizzando il profumatore alla lavanda ragazzi cioè questi al momento non li sto usando più perché quel profumatore alla lavanda che ho comprato su dem online mi sta piacendo tantissimo ha una durata pazzesca io dopo che ritorno dal lavoro faccio il letto faccio arieggiare la camera e tutto quanto lo spruzzo e rimane dalle tre alle quattro ore anzi ultimamente lo sto spruzzando anche prima di andare a dormire perché mi aiuta a rilassarmi veramente veramente ottimo poi ho finito ormai le mie sapete che uso solo ed esclusivamente queste tavolette per il bc della home circus secondo me sono le migliori hanno all'interno la candeggina e mi aiutano a tenere il oh guarda lì ho cambiato colore e mi aiutano a tenere il bc pulito sono abbronzata va bene e nulla buonissime per me sono buonissime e compro esclusivamente solo queste sempre come profumatori di ambiente ho finito per i glad quelli piccolini che costano una salassata veramente questo al mughetto e mi piace davvero tantissimo il mughetto è uno dei miei fiori preferiti veramente da questo ce l'ho sulle scale una profumazione molto fresca molto fiorita buona buona questo avventure oceaniche o avventure dell'oceano buono anche questo hanno ultimamente hanno cambiato il pack questi per le ricariche di quelli un po' più piccolini che quando si passa fanno lo spruzzo molto buoni e come ultimo questo invece al non c'è più su la profumazione era ai frutti rossi e vino era una profumazione invernale anche questo molto molto piacevole sono tutti buoni peccato che costino veramente tanto e peccato che non ci siano delle ricariche compatibili che si possano riutilizzare va bene così bene cari amici io ho finito questo video di prodotti home della casa tra un po' appunto ci sarà lo svuota la spesa dello store cardarelli perché sono molto curiosa di farvi vedere che cosa ho comprato e soprattutto di utilizzare e provare i prodotti vi saluto vi auro un buon fine settimana spero di riuscire a girare nella mia lentezza di tartaruga ancora qualche video perché ne ho tanti in programma ma ragazzi miei qui faccio fatica mi scuso anche con gli amici che hanno i canali e che sto seguendo ma molto molto lentamente cioè la sera poi arrivo a una certa ora dopo che ho finito le faccende o tutto quanto che mi siedo in poltrona e proprio mi addormento letteralmente mi addormento anche mentre sto leggendo un libro quindi non è da me questa cosa ma sarà la primavera sarà questo cambio di ora che mi ha letteralmente ammazzato ancora più degli altri anni e va bene facciamo i conti anche con la mia età io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui vi abbraccio vi auguro un buon proseguimento di settimana e ci diamo appuntamento ad un prossimo video ciao ciao